I componenti dell'Associazione si sono mossi al fine di raccogliere voti prescindendo dall'ideologia, prescindendo da qualunque aspetto che li portasse a sostenere l'una, ovvero l'altra forza politica o altre forze politiche. Siamo in presenza, ed è stato raccolto nel corso delle indagini, di un appoggio elettorale che a prescindere dai risultati ottenuti è stato offerto nei confronti di soggetti che erano candidati nell'uno e nell'altro schieramento politico, in particolare alle ultime elezioni regionali, e che questo hanno fatto evidentemente per raggiungere il loro scopo principale che è il rafforzamento del proprio potere sul territorio, la creazione di contatti con soggetti politici che fossero in grado poi di restituire il favore ricevuto, sfruttando le posizioni eventualmente raggiunte. Sì, io ho citato l'episodio in cui sono andati a chiedere espressamente dei voti a un esponente di vertice, in questo caso Franco Orlando, sono andati a chiedergli dei voti, subito dopo l'elezione, la candidata eletta è andata a ringraziarlo dicendogli proprio sono stata eletta grazie a te. Questo fatto nel bar di Franco Orlando che oggi è stato peraltro anche sottoposto a sequestro tra le varie imprese che sono state sottoposte a sequestro.